E io, Gian Galeazzo Visconti, rendo noto con la presente lettera a voi, nobili signori d'Europa, che mi sono visto costretto ad arrestare mio zio Bernabò e tutta la sua stirpe. Da tempo, infatti, egli intesse lo schetrame, congiurando per la nostra morte continuamente, in molti modi. Lo screditiamo inoltre come principe ed elenchiamo i suoi sopprusi contro i sudditi tradotti in omicidi, torture e imprigionamenti. E ci soffermiamo sulla nequizie della sua condotta e sui suoi numerosi adulteri. Disponiamo quindi, con la morte nel cuore, il suo trasferimento nel castello di Trezzo, dove sarà rinchiuso fino a quando il Dio avrà pietato della sua anima e lo chiamerà a sé. Puh! E che tu possa... Puh! 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 Puh!